bentornati a shift happens allora proviamo proviamo subito l'ultima l'ultima location del terzo mondo allora io andrei qua sopra ok e lì sopra come ci arrivo deve lanciarmi lui quindi devo andare anche con te qui sopra ok prendilo prendilo ok e cosa fa mi togli la giustamente ok e adesso io invece vado di qua e la tolgo a te ok perfetto e fin qui ce l'abbiamo fatta qua che succede ok più più tengo premuto e più questa sale va benissimo no no aspetta però bismo bismo è troppo 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 no ma vai mannaggia ho sbagliato tasto che minchiona allora poi io passo di qua e questo fa salire mamma mia e come faccio perché con questa d'accordo sale qui ma poi io devo mollarla oh mamma non ce la farò mai e con l'altra col b giusto ok no ma però devi ascoltare plama anche tu mannaggia allora facciamo così ok e l'altra col b no devo diventare piccolino devo diventare piccolino così non va bene allora aspetta facciamo così e così stai pronto plan mi raccomando è pronto anch'io però no no ragazzi non ce la farò mai no questa qua è una cosa che non potete chiedermi non potete assolutamente chiedermelo come la faccio questa ma dai è complicatissima no vabbè vabbè no no ce la posso fare dai ce la posso fare un po di oh yes no però di più poi devo rischiacciare di nuovo b non ci ho pensato non ci ho pensato però se ce l'ho fatto una volta ce la posso fare anche la seconda dai no ma dai ma dai allora prepariamoci adesso appena scende piano piano ok vai no però devi tenerla su plam devi tenerla su così non andiamo d'accordo per niente ok vai è perché questo gioco è concepito per la coop è quello il problema da soli è difficilissimo te non morire mi da mi raccomando per favore aiuto allora no mi devi prendere plam devi prendere no ma perché ma perché faccio queste cose perché sono andata proprio incontro alla morte così con con allegria no ci ha provato però ce l'ha messa tutta no ma dai ma sei rincoglionito ma scusami eh ma io l'abbilo premuta ma sei veramente un infame ma prendilo ma guarda a te ma io lascialo qua ma guarda faccio fare a lui oh mamma eh no mi devi mi devi lanciare mi devi lanciare non mi piace per niente questa cosa ma mi devi lanciare te ok e perché si deve venire fuori questa questa cosa qua sotto ok bene molto bene come faccio ad andar di là senza morire come faccio ed è passa sotto i cactus con la roba lì oh mamma oh mamma e ci vado con adesso proviamo allora no aspetta facciamo così qua ok adesso però scendi un attimo no anzi diventi un attimo piccolino no mamma mia che rischio è incredibile ok e adesso di nuovo ecco 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 ok però non so come non so come venire di là oh mamma come faccio a passare di qua mi devi venire a prendere tu oppure devi metterti un po' qui e spero che tu mi prenda mi mi dà il comando no non mi dà il comando fino a lì ma come faccio porca miseria no non ho proprio idea di come fare aspetta e vengo giù ti prendo ti lancio però poi muoio sicuro vengo giù ti prendo e ti no 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 ce l'ho fatta non morire la cosa è interessante non posso neanche saltare lì sopra devo devo prenderlo e lanciarlo per forza aspetta è l'unica devo prenderlo e tirare e vabbè fa niente siamo morti però ce l'abbiamo fatta aspetta no vieni di qua piccolo però devi essere ok dovrei riuscire a farlo il salto di là ok adesso per favore con queste schifezze di cose non morite non morite mi raccomando ecco perché ogni volta faccio delle figuracce con queste piattaforme ok allora adesso vengo a prendere te e ti lancio dall'altra parte vai perfetto io come come ci vengo di là boh adesso vediamo come ci vengo di là mi devo lanciare nel vuoto e tu mi devi prendere spero ah no ce la faccio guarda pensavo di no e invece ce l'ho fatta perfetto allora questo si no aspetta questo si tira e si si tira e aspetta allora così e così e poi tu diventi piccolino ok perfetto mamma mia prendilo e con tanta tanta buona speranza lo lanciamo boh no 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 mamma mia mamma mia no ma me lo dovevi rianimare no e questa è sempre la fine che facciamo perché io non ho abbastanza vite da usare ci rivediamo qui fra poco allora siamo di nuovo qui ce l'abbiamo fatta a questo punto io salterei lì sotto visto che è andata male col lancio di prima io salterei qua sotto almeno questo sta al sicuro un attimo e io provo a vedere cosa succede qua no e vabbè però proprio così che cavolo allora ok sono arrivata addirittura qua e ma comunque è un problema ma forse devono venire tutte e due di qua perché io poi devo lanciarlo lì vediamo ok ok no piccolino allora così mi lanci prendimi e aspetta con calma lanciami lì no non va bene ok come non detto dove dove ti lancio forse saltando vediamo no 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 decisamente no allora così come ti devo mi sa che dobbiamo fare veramente un lancio di quelli eh non riesco eh ti lancio nel vuoto come faccio come faccio eh no eh non saltare sta buono sta buono sta buono ehm oppa no però forse forse quasi può essere ce l'abbiamo quasi fatta ci sono quasi arrivata oh porca miseria a momenti che scavamo tutti e due eh oh devo devo cercare di capire come cavolo si fa eh non riesco non riesco eh no eh no no questo proprio eh è una cagata eh ehm e su così e lo lancio là proviamo tanto a volte eh quasi ah 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 no non c'è proprio speranza io ci riproverei no niente eh ci ho provato abbia pazienza non è per cattiveria in qualche modo bisogna fare mi sa che ma no non è possibile perché quella lì serve per passare di qua e questa qua è troppo bassa cioè è troppo corto il salto che si fa con quella eh sì no qui fammi saltare su di qua ci deve essere un modo quasi che palle ok uh ah ah ce l'ho fatta ce l'ho fatta maledettissimo ce l'ho fatta ok oh eh insomma ci doveva essere un modo eh non era possibile eh adesso però io devo andare di là ma ce la facciamo? io lo spero vivamente invece no mmm eeeh questa cosa qua è interessante ah forse mi devi prendere aspetta mi devi prendere tu da qua e poi mi lanci dall'altra parte l'unica ecco mi sembrava ok vai ottimo comunque è proprio giusto giusto eh ok no porca miseria sempre se cagate meno male che ho rimediato allora adesso mi devi prendere tu quindi mettiti qua e no forse ce la faccio da solo però meglio così va allora vai eh io ti raggiungo ehm ti devo tirare lì sopra immagino vai e tu devi andare di qua hmm aspetta che mi metto posizionato meglio vediamo ora devo passare da questa parte ok ah ci siamo ci siamo molto bene ma mamma mia che ansia sto gioco che mette più che altro per catch me if you canyon fantastico per aver completato il canyon fantastico if you canyon ma la maggior parte delle volte non non canyon va bene eh quindi abbiamo finito il terzo mondo io ragazzi non prometto niente per il quarto eh perché se sono tutti così mi sa che le mie capacità si fermano qua però ci proviamo ovviamente eh ci proviamo niente da dire ecco siamo al quarto poi eh storage credo che eh significhi che dopo il quarto si passa alla fine eh sì perché qua va indietro e quindi penso che il sesto sia la fine di tutto il 406 però vedremo ecco allora it's getting frosty quindi penso che saremo in un paesaggio che ne so ghiacciato innevato non lo so ma lo scopriremo la prossima volta ciao ciao